La vincitrice, uscita adesso dall'acqua, Luis Enzo! L'osia 4 è il campione del mondo in carica per la Romania! Le grame a po' come il champion, anche il governo del mondo media, Davide Popovic! Questa è la finale del 200 meter freestyle! Finale 200 stile libero, uomini! Take your mark! Popovic, who broke the 100 freestyle world record holder a couple of days ago. He's the world champion in this race. Also the world junior record holder with one 43.21. Will it be another championship record? Maybe a world junior record, maybe even more than that. He's the world junior record holder. He's the world junior record in this race. Here's the world junior record! a 4-5 Stefano Riccardo e Corsi a 2 per l'Italia in terza posizione Allora, il domando nel 24-10, Corsi a 4 nella Romania lotta per i mediali il bianco vince Spizzera da 5 Stefano Riccardo e Corsi a 2 la nuova con Giulio in terza posizione a 3 e basta la nuova con Giulio Corsi a 3 e basta la nuova con Giulio in terza posizione a 4 per l'Italia in terza posizione a 3 e buono l'Italia e con il mondo l'Unione 1-49-97 Davide Popovic 142-97 Svizzera 1-45-60 Felix 들어�支 stairs ovun austria 1-45-89 Grazie a tutti.